Esordio convincente dell'Amen Scuola Baschetta Rezzo che bagna la prima al Palasport Estra con una vittoria per 78-58 contro il consorzio Leonardo Servizi Quarrata. Dopo un primo quarto di studio dove le due squadre hanno sparato molto a salve, gli Amaranto hanno affondato un parziale di 16-2 dopo la metà del secondo quarto, ispirati dalle triple di Kirlis che ha dato uno strappo alla partita in un momento non facile per l'Amen che stava facendo a meno di Giommetti e Cutini costretti alla panchina per un fortuito scontro di gioco. All'intervallo la sbava sul 34-18 ma nel terzo quarto gli ospiti provano a rientrare sfruttando l'ottimo Vannoni che riporta a meno 10 la sua squadra. L'Amen ha il merito di non sbandare e grazie ad una difesa attenta e determinata rimane avanti 59-39 al trentesimo. L'ultimo quarto è un monologo Amaranto, Dolfi e Cutini colpiscono con regolarità la difesa ospite bloccando le ultime risidue speranze pistoiesi di rimonta. L'Amen metta referto 27 punti nell'ultimo quarto chiudendo la partita sul più 20, 78-58 e soprattutto con gli applausi convinti del Palasport Estra che fin dalla prima giornata si è stretto intorno alla squadra retina. Domenica prossima prima trasferta della stagione contro il Melogia Livorno battuto in Coppa Toscane che proprio per questo vorrà rifarsi dell'eliminazione. 78-58 se questa è la comprimaria nel primo turno di questo campionato Serie C Silver inizia veramente promettente coach Peppe Delia. Sì, sicuramente Quarrata sulla carta si è presentata ai nostri di partenza come una delle squadre favorite e così sarà secondo me. È stato importante il nostro approccio dall'inizio della gara, è stato bello e importante la nostra capacità di tenerci uniti anche nel momento di difficoltà. Mi riferisco in particolare tra il primo e il secondo quarto quando in un sol colpo praticamente un po' di aggressività, d'eccesso degli avversari ci ha messo fuori uso per lunghi minuti sia Gio Metti che Cutini. Come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio sia a fine primo tempo che a fine partita al momento non trovo nulla da dire se non bravi, bravi per come si sono allenati finora, bravi per come hanno giocato e io penso che così sarà bello, divertente e sarà difficile per chiunque giocare contro di noi.